Doktor Tekin Relecteur find out Buonasera a tutti. Allora... Mi dispiace solamente che non avete un carlice di vino in mano, perché sarebbe la cosa fondamentale a quest'ora. Sicuramente questa piccola presentazione che ho voluto dedicare per questo speech di oggi è una cosa scientifica. Quindi la premessa è che il nostro palato è uguale per tutti. Voi vedete questi grandissimi sommelier in televisione, io evito di fare questa cosa, che tolgono a volte conigli dal cappello. Che significa? Significa che vi parlano, che ne so, di legno di sandalo, di legno di cedro, di curcuma, di cumino, e magari nessuno di voi ha mai annusato queste cose. Mi trovo spesso e volentieri a trovarmi davanti a del pubblico, o a fare delle presentazioni di vino, con un pubblico che potenzialmente non ha un'istruzione per poter capire le sfaccettature sia sensoriali che gustative di quello che riguarda il vino. Voi pensate a 100 persone che hanno lavorato in banca, arrivano una sera con il miglior sommelier del mondo a fare una degustazione, e io inizio a sentire acidità, tannino, oppure inizio a parlare di gomma, di persistenza. Quindi c'è una chiave di lettura molto divertente, che è quello che è l'innovazione. La presentazione di oggi si chiama innovazione, quindi dimenticatevi quello che avete visto fino ad ora, ora farò spengere le luci, e iniziamo in un percorso sensoriale, tipo un centro benessere del gusto. Un modo diverso di parlare di vino, utilizzando i colori, utilizzando le linee e utilizzando la musica. Se vuoi spengere le luci. Perfetto. Pensate al colore verde. Che cosa vi dona il colore verde nella vita? In questo momento voi avete una sala, è piena di bicchieri di vino, io faccio spengere le luci, e voi prendete il colore verde. Cosa succede quando c'è il semaforo verde? Non mi dite che passate, che vi fermate, perché il semaforo verde lascia passare. Il verde è il colore che viene associato al biologico. Pensate a quello che è la nostra vita, quando si dice una personalità in erba. Il verde è la freschezza, il verde è l'acidità. Quindi, stasera vi ho servito una bollicina, voi in questo momento avete una bollicina in mano, e io inizio a parlare del vino. Vi faccio il vino verde, tutta la sala inizia a ridere. Perché rigorosamente è una bollicina, rigorosamente ha questo colore dorato. Però rispecchia quello che è il colore verde. I colori sono fondamentali, perché hanno un significato, c'è un vocabolario dei colori. E da lì li possiamo associare a quello che è il vino. Quindi il verde viene associato al colore della natura, simbolo dell'olivo, immaginatevi un albero di arance. Il percorso della vita inizia verde e finisce rosso. Quando pensate al verde, pensate alla freschezza. L'associate all'acidità e l'associate all'inesperienza. Quello che anche i vini bianchi danno, perché sono dei vini bianchi magari che vanno bevuti subito. E questo è fondamentale. Quando pensate al palato, che è disegnato con quattro sensazioni per tutti uguali, dovete pensare che queste sensazioni che avete in bocca sono per tutti uguali. Quindi un vino bianco che ha freschezza è un insieme di punti che sappiamo dove inizia e dove finisce. Quindi se noi descriviamo questo vino a una persona che non sa niente di vino, con il verde e con una linea gustativa dritta, che è quello che fa l'acidità nel palato, e poi magari ci abbiniamo un brano musicale, tipo una musica elettrica perché il vino bianco vibra, questo è quello che possono provare le persone e che possono riscoprire con delle cose che comunque sono parte della nostra vita. Parte della nostra vita perché abbiamo la musica, abbiamo le linee e abbiamo i colori che vengono associati a quello che abbiamo nella vita. Vi faccio continuare a giocare. Il rosso. Facile dire. Un vino rosso. Cosa vi dona il rosso nella vita? Sensualità? Calore? Io lo trovo pericoloso. Lo trovo morbido. Però pensiamo al colore precedente, che era il verde, e pensiamo al rosso. Da una parte la maturità e la dolcezza, dall'altra parte la freschezza. Quindi, a parte che al semaforo rosso ci si ferma, qualche volta si passa, però in generale ci si ferma, quindi è un segnale di pericolo, come il primo bicchiere di vino rosso, se magari si fa bere molto bene. La maturità. Quando bevi un vino rosso, senti la maturità del frutto nel naso. E quando vedi il colore rosso, l'associi subito alla maturità. È usato per evidenziare. Se voi in un contratto avete la scritta firma il rosso, la prima cosa che vedete è quella. Quindi attrae l'attenzione, come un bel bicchiere di vino rosso toscano. Il rosso è il colore del sangue. Il rosso viene associato anche a tutto quello che riguarda la noa tematica. Quindi è molto carnale. Quando assaggiate questo vino rosso in maniera, diciamo, teorica, però ancora una volta la sale è spenta, voi avete un bicchiere di vino rosso davanti e vedete questo colore rosso. Parliamo di linee gustative. Il rosso è associato alla sfera gustativa. Da piccoli giocavate con le biglie? Ogni biglia che avete messo in bocca, se ci riprovate ora, da ogni parte del vostro palato che tocca, spingendola con la lingua nella parte superiore, non troverà resistenza. E questa è la rotondità gustativa. Se lo fate con un dado o con un triangolo è totalmente differente. Vedete che gli angoli creano un gioco differente. E se dobbiamo associare al rosso una musica, logicamente il rosso che è ematico, il rosso che è sensuale, il rosso che è il calore, si sposerebbe bene con quello che riguarda magari un tango o una musica molto calda, molto avvolgente. C'è un vocabolario per queste cose, quindi c'è il vocabolario dei colori che ci aiuta a entrare nella mente della gente provando a parlare delle cose che potrebbe essere associato al vino come tante altre cose. E ora vi voglio stimolare con un'altra cosa. Pensate a un vino di vent'anni. Facciamo, siamo in Toscana, Brunello di Montalcino di vent'anni. Brunello di Montalcino di vent'anni è blu. E tutta la sala magari mi dirà perché il Brunello è blu? Che cosa succede quando vedete il mare e il cielo? La prima cosa che vedete è l'inizio e non vedete la fine. Il blu è un colore classico. Sicuramente non avete mai visto un politico andare in Parlamento con la giacca gialla. Può succedere questo solo in Italia, però principalmente non dovrebbe essere. Il blu è un colore classico, è un colore che dà profondità, è un colore che leva l'appetito perché quando ti trovi davanti a un grandissimo vino rosso l'attenzione va subito sul vino e perde l'attenzione su quello che è il nostro piatto per andare in abbinamento. Il blu è un colore che per essere classico ha bisogno di tante componenti. Ci dona freschezza, ci dona sobrietà, ma ci dona anche una lunghezza visiva. Classico è anche un brunello di Montalcino di vent'anni, fatto da 100% sangiovese. Voi pensate ora di assaggiarlo e come vi entra in bocca questo sangiovese è praticamente un quadrato gustativo. La nostra bocca assaggia, assente solo quattro cose, quello che è l'acidità, la freschezza, la sapidità e tutto quello che è l'amaro in quattro punti differenti. Se voi mettete del cotone nel naso, questo ci succede a tutti. Quindi, quando prendete un dado da gioco, ve lo mettete in bocca e lo spingete con la lingua nella parte superiore, sentirete che la perfezione, i quattro angoli gustativi, vi toccano la lingua nella parte superiore del palato. Il brano musicale che deve essere abbinato al blu oppure al dado, al quadrato, che cosa sarebbe per voi? Cosa ci potreste trovare in questo abbinamento musicale? L'abbinamento musicale è sicuramente fatto da un pezzo di musica classica. Il pezzo di musica classica perché ogni strumento in un grande vino è fondamentale. Quindi dal violoncello, la viola, il contrabbasso per rendere grande lo spettro del vino. Questo è un linguaggio che si può utilizzare nel momento in cui trovi delle persone. È un po' più difficile quando non abbiamo un bicchiere di vino davanti. A quest'ora ci sarebbe anche bene. Però può essere utilizzato perché la gente vive questi colori, vive queste emozioni, vive le forme geometriche e durante il brano musicale va a finire il suo bicchiere di vino senza essere poi suggestionato da i mille discorsi che facciamo noi su Omidie che a volte veramente sembriamo dei grandissimi maghi. Grazie. Grazie.